A volte servono i numeri per spiegare un problema, soprattutto se questo problema è una piaga sociale. Sono 125, infatti, stando all'ultimo report dell'inizio dell'interno e aggiornato a Ferrarosto, le donne vittime di femminicidio in Italia nel 2022. Tante, troppe, per un fenomeno che sembra inarrestabile. Per questo, allora, urge fare tanto e fare bene. E anche a Bitonto lo sanno. Ed ecco che riapre, allora, il Centro Antiviolenza Comunale, affidato alla cooperativa Io Sono Mia. Da ben nove anni in prima fila per sensibilizzare su queste tematiche, forti e sempre attualissime. Con questo affidamento si aggiunge un altro tassello importante al lavoro che per tanti anni le operatrici hanno svolto in maniera volontaria, fino a quando abbiamo raggiunto i cinque anni di attività, di esperienza sul territorio previsti dalla legge regionale e siamo diventate un centro antiviolenza autorizzato. Il centro, allora, che rientra nell'ambito di piano con Palo del Colle sarà tante cose. Un punto di ascolto, H24 perché anche è telefonico, un riferimento per tutte le vittime, un aiuto prezioso quando tutto ti colla addosso, uno spazio che aiuta a prendere consapevolezza del problema. Quella consapevolezza che poi è alla base di tutto. Per il periodo proprio della pandemia in cui si è stati chiusi in casa abbiamo avuto un calo pauroso delle chiamate e questo non era positivo perché voleva dire che le donne erano talmente sotto controllo da non poterci contattare e poi dopo ci sono state delle esplosioni di violenza maggiori. Ma questo non vuol dire che la situazione è peggiorata, vuol dire solo che la situazione è stata messa in evidenza, si è concentrata diciamo in modo diverso, si è mostrata in un modo diverso. Anche il Comune è impegnato in primissima linea sulla violenza di genere e sa benissimo che è una battaglia che deve coinvolgere tutti. Insieme al Centro Antiviolenza sarà programmata nelle prossime settimane e pubblicizzata tutta una programmazione antiviolenza fatta di eventi, di eventi rivolti ai bambini, ai ragazzi, alle bambine, alla cittadinanza tutta, di sensibilizzazione e soprattutto verrà ampliata la platea degli operatori che potranno accedere alla formazione specialistica per poter intercettare, identificare quali sono quegli elementi predittivi delle situazioni di violenza. Il centro è situato in via Monsignor Calamita al Civico 18 e sarà aperto il martedì e il venerdì dalle 15.30 alle 18.30.